Dopo Stefano è assennato Vendola, riprenderanno lunedì 8 marzo le ringhe della difesa nel processo ambiente svenduto in corso presso la Corte d'Appello di Taranto. Il legale dell'ex governatore parlerà il 9 marzo, stesso giorno anche per il difensore dell'ex presidente della provincia Gianni Florido, per il quale sono stati chiesti 4 anni, mentre i difensori di Fabio e Nicola Riva, tra i principali imputati del processo in quanto proprietari e amministratori di ILVA, interverranno in Corte d'Assise rispettivamente il 30 marzo e il 12 aprile. L'accusa è che stavo 28 anni per Fabio Riva e 25 per il fratello Nicola. Nell'ultima udienza è intervenuto l'avvocato Michele Laforgia, difensore insieme ad Emanuele Sborgia, di Giorgio Assennato, ex direttore generale di Arpa Puglia, che risponde di favoreggiamento verso Nicchi Vendola. Per l'accusa, che per l'ex DG Arpa ha chiesto un anno, Assennato avrebbe negato le pressioni fatte dall'allora governatore di Puglia, affinché l'agenzia regionale ammorbidisse il attiro su ILVA. Vendola, anche l'imputato, risponde di concussione aggravata in concorso. I PM hanno chiesto per lui la condanna a 5 anni. Per Assennato, i legali hanno chiesto l'assoluzione. Per Laforgia, in questo processo, siamo di fronte a un autentico paradosso, ha detto. Senza questi 10 anni di Assennato all'Arpa, il processo non sarebbe mai nato.